Allora, dottore Armando Sorbello adesso farà la sua relazione breve, brevissima, perché poi dobbiamo anche concludere e prego. Grazie, certo che è fantastico, bello riuscire a parlare a così tanta gente e io volevo Pippo se tu mi permetti dire subito una cosa, che la prima cosa che noi dovremmo fare, che qualunque amministrazione salga deve fare per tre castagni è di riconciliare i tre castagnesi, lancinati da questa campagna elettorale che ha messo l'uno contro l'altro, questo è secondo me il principale obiettivo perché soltanto stando insieme tutti vincitori si riesce a portare avanti la nostra comunità che ha bisogno di tanto, quindi io ritengo che questa è la prima missione Pippo che bisogna fare, riunire i cuori, stare insieme, volerci bene, lo dico guardando tutti in faccia, tutti negli occhi, questo è un grande obiettivo che bisogna fare solo col cuore, ritengo che questo obiettivo alberga sia nei nostri cuori che nei cuori della vista avversaria. Andando alle cose operative della futura amministrazione, Pippo io con te ho subito diecine di incontri nelle famiglie, centinaia di strette di mano, di commenti con la gente, di andare nei quartieri, nelle periferie, tutti i cittadini ci hanno esposto un problema particolare che giustamente noi abbiamo messo al primo punto che è quello riguardando il territorio e l'ambiente, questa è in forma specifica la mission principale, la prima missione che dobbiamo compiere perché ce lo diano i cittadini, nei quartieri, nelle varie periferie, lo scermamento, la raccolta differenziata, il potenziamento del servizio della raccolta ai rifiuti, questa è una priorità assoluta che ci siamo imposti e Pippo ha detto, lo sottoscriviamo, che questa priorità i cittadini devono darci 12 mesi di tempo per poterla arginare e poi esporre ed essere giudicate alla gente, lo faremo questo, la carta identità di un'amministrazione è il decoro urbano, quindi anche con la red urbano occorre mettere mano a iniziative nuove che permetta di godere in maniera piena, felice i nostri spazi, perché proprio se ci sono spazi adatti alla collettività, a rendere vivo il cuore di ogni quartiere è possibile ritrovare quella comunità, ritrovare gli ambienti in cui poter stare, ricordo che in passato mi sono occupato di spingere il restauro di diverse realtà, la chiesetta di Sant'Andrea o la chiesa delle suore o altre cose, ci sono dei momenti, delle cose da dover fare perché lì si insidia la possibilità di poter stare insieme, le comunità si rispecchiano nei luoghi e negli ambienti e quindi il territorio ambiente certamente riesce a essere uno dei punti salienti nel nostro programma, turismo e sviluppo economico, questo è ovviamente il punto cardine su cui si muore l'economia di un territorio, non abbiamo una zona artigianale che occorre necessariamente far rilanciare, sviluppare, realizzare, in una prima parola, ce lo chiedo agli artigiani Pippo, questo, avere una zona artigianale dove poter allocare le loro aziende, oggi abbiamo tantissimi, bravissimi artigiani, ottime maestranze che non riescono oggi a poter ampliare la loro attività perché hanno uno spazio piccolo, occorre quindi potenziare, realizzare, rendere operativa la zona artigianale, così come potenziare e rendere più efficiente la zona industriale che abbiamo al Pakistan. Certamente Pippo, vedi, ecco il sindaco, una comunità si erge sulla figura del sindaco, ma il sindaco è attorniato da una squadra di persone e questa è un'altra amministrazione, questo è un altro sindaco e altri assessori, è una cosa diversa, ci sono persone diverse e le persone che hanno avuto esperienza proprio sulla scorta dell'esperienza vissuta riescono a potenziare, a rendere operativo cose nuove, sostenere questa nuova amministrazione. Sulla sicurezza e la legalità, noi ci teniamo a questo concetto, ci teniamo fortemente al concetto di sicurezza e legalità, ce lo chiedono i cittadini, certamente uno dei primi atti che faremo già è scritto perché insieme al collega Lomonoto e insieme al collega, l'Avvocato Matteo Scuderi abbiamo già realizzato la bozza del regolamento che permette la videosorveglianza del territorio di essere il primo atto che farà il Consiglio Comunale, perché attraverso questo regolamento che tutela la praia si possiamo fare la videosorveglianza, perché così è bello, perché la videosorveglianza non serve esclusivamente a vedere, ad arginare le rapine, ma serve anche ad arginare quei fenomeni che purtroppo viviamo nel nostro territorio, che restauriamo un gioiello come il museo e doviché la sera stessa della consegna dei lavori c'è quello con lo spray che proviene alla facciata, questo è disegno artistico, lo organizziamo in altri posti, magari al campo sportivo, ma non nei nostri beni culturali perché è un sacrilegio per le tasche cittadini, per i contribuenti che vedono deturpate le facciate del nostro centro storico. Il primo atto sarà questo regolamento. Il dottor Michelangelo Lomorano. La compagna elettorale è oggi al termine e mi pare di aver capito che lo sforzo più grande dei nostri avversari è stato quello di dimostrare agli elettori che il loro programma è migliore del nostro. Ritengo che abbiano sprecato una buona occasione per dedicare il loro tempo a cose sicuramente più produttive e vi spiego perché. In realtà non esiste alcuna legge che vieta ad un'amministrazione di realizzare obiettivi, di porre in essere attività amministrative diverse rispetto a quelle indicate nel programma. Anzi sarebbe molto grave che un'amministrazione, una lista si presenti all'elettorato ritenendo esaustivo tutto quello che è contenuto nel programma perché allora nel caso di emergenze sopravvenute o di opportunità sopravvenute evidentemente non lo potrebbero attuare perché non c'è scritto nel programma. È chiaro quindi che la programmazione non può essere quella del programma amministrativo del candidato sindaco. Necessariamente la programmazione si basa invece su livelli diversi, annuali, triennali e la programmazione si verifica, si certifica nel corso dell'attività amministrativa, quella quotidiana, per cui vi è una programmazione contabile, finanziaria, vi è una programmazione in ordine ai lavori pubblici. Già mai è esaustiva la programmazione contenuta nel programma elettorale. A cosa serve il programma elettorale allora? Serve a far capire agli elettori la concezione generale della politica, quale metodo, quale modo di approccio ogni lista ha nei confronti dei problemi e nel perseguimento dell'interesse generale della collettività. Nel caso nostro di Trecastagni ritengo che non è necessario soffermarsi troppo sui programmi, bisognerebbe anche far sapere agli elettori che vi sono due liste contrapposte, quella dell'onorevole Barbagallo di centrosinistra e quella di Pippo Messina di centrodestra e alle nostre spalle vediamo i simboli e i partiti che appoggiano questa lista con il sostegno autorevole e competente degli esponenti della società civile. Anche noi avremmo potuto scrivere il libro dei sogni, consapevoli che non viene nessuna sanzione, perché nessuna sanzione è prevista per la mancata attuazione del programma elettorale se non fondando una generica responsabilità politica dell'autore del programma elettorale. Abituati come siamo invece a promettere molto meno di quello che siamo sicuri di realizzare e affinché le parole non rimangano soltanto parole abbiamo preferito tracciare gli elementi essenziali del programma, è chiaro che ci misureremo quotidianamente e ci confronteremo con la fase attuativa e con l'impegno, quindi quello che noi vogliamo fare con questo programma elettorale è quello di dare una speranza agli elettori, di far capire che con l'impegno, che con la competenza, che con la professionalità, con la serietà, con l'onestà sicuramente possiamo fare bene e le speranze possono diventare in realtà.